Buonasera a tutti, io sono con mio amico, quindi stiamo facendo un giro, compreso stiamo facendo un giro, questa è la spiaggia di italiano, mamma mia, che bella. Quindi mio amico si chiama Umarubi, vengo da Unia, è veramente, è uno bravissimo amico, quindi non so, io pregarò che voi troverete qualcuno come lui, anche se capisci cosa ho detto. So, I have something to say speciale to you, it's not too late for you to discover what you are born to do, meaning it's not too late for you to succeed your dream, it's not too late for you to stand off for your success, and it's too late for you to quit, and also it's too late for you to conclude your dream. Eh, fratello mio, cosa tu puoi dire in Italia, cosa ti piace in Italia? Prima, ciao, ciao a tutti ragazzi, buonasera, come state? Io sto bene, penso pure voi. Ok, sono con mio amico, bravissimo, si chiama Tom Tsung, in Nigeria. Rao donne, bravissimo, si oltre bene, però diciamo bene. Allora, vieni tutti amico mio. Cos'è? Eh, siamo andate a lavoro oggi, quindi poi abbiamo messo d'accordo di andare in giro, perché non possiamo restare a casa. adesso siamo in questa spiaggia dove si fa tutto poi guadagna tutto grazie a Dio che siamo vivi di vedere oggi perché ci sono alcuni che sono più grandi di noi non perché siamo più diciamo negli o non siamo più forti ma è la forza di Dio to be sincere with you it's not because you are too great or you are too ma io scusami siamo su estate adesso per restare a casa è caldo dobbiamo uscire per prendere a fuoco capito sì 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 ho compreso ma pensiamo su estate però più tardi l'estate è finito poi arriva l'inverno eh sì perché è veramente mio amico non piace restare a casa lui piace andare in giro anche a me perché così puoi vedere quella che non hai mai visto perché se tu resta a casa non c'è come dicono gli italiani non c'è un caso di imparare perché a casa si rovina tutto però se tu vai in giro puoi vedere quella che non mai vedi come vedi belle donne che Dio ha fatto anche tu puoi conoscere le persone sì capito le persone e tanti capito noi siamo flori sia regioni così ha detto Salvini pure Salvini ha detto negli però oggi chiamo i flori miei o no? sì sì siamo negli noi e veramente sono contento oggi perché è il primo giorno che ho fatto il video con mio amico quindi voglio dire a voi anche io sono molto contento per te tu sei molto bravo anche a te sì sì anche tu sei molto bravissimo io mi chiamo Omar B si Omar B di Gunia Konakri sono con mio amico Samson da Nigeria che mangiamo insieme balliamo insieme facciamo tutto insieme sì 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 a te dire passiamo a te tutto quello perché non no no strafosa ma è la benedita di Dio sì a te alle comunque in che di supporto di Dio sì To be sincere with you, I'm so happy to be here And I'm so happy of the opportunity that God has given to me It's not because I'm too nice, nor I'm too stupid But to be truly with you, I'm so happy Because God has given me the privilege to see a day like this Because there are many of my friends that is already dead There are many of our friends that is already what, lay on the ground But we are still existing And we are still hoping And we are still focusing And we still hope that one day it will be better than today That is all our hope And that is also what we hope for you all out there That one day your condition, your situation The circumstance of your life Will automatically change one day Don't give up And don't forget Non smitterai Non mollerai Non penso che tu sei Tu non Tu non sei importante Perché Dio ti voglio bene And Dio ti amo sempre Quindi quella è la cosa più importante Diciamo buona serata a tutti Buona serata a tutti voi Ciao ci vediamo alla prossima Video Ok ciao